AH! BLOOD! IT'S MY BLOOD! ma benvenuti a questo nuovo gameplay titolato Michigan report from hell è un survival horror un po' particolare assomiglia un po' tipo Fatal Frame ma ora andiamo a vedere di che si tratta subito e immediatamente mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella commenti e like e partiamo con Michigan Report from Hell oi la so you're the new cameraman huh I hear you're a rookie the name's Brisco I'm the sound guy nice to meet you that's Pamela you've seen her before haven't you she's Zocca TV's star reporter after all hey you're pretty lucky to be teamed up with Pamela right up the bat sei un po' uno stronzo eh but don't go getting any funny ideas about her you hear me of course Pamela probably wouldn't give you the time of day anyway man what could the agency be thinking oh fuck cool sending a newbie like this guy out to get scoops ma va cagare oops you hear that brisco per continuare allora devo andare a cercare sti sti cosi o devo andare da brisco brisco mignottone no ok next topic ramming is a technique you can use a pinch dovrei usare gli spintoni un cameraman può solo usare il corpo lo sai non può togliere le mani diretta di camera ok adesso provo a spintonarmi ma non troppo forte capito si sei pronto ok go ahead and try it vai ma fai col calmo we're just practicing here remember ok go easy now va bene brisco tieni hey you idiot cosa c'è brisco cosa c'è ah 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 brisco only use ramming in emergencies ok mhm you'll know when just use your common sense si 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 ti sta bene pamela martell oh marro nice to meet you ok brisco i'm borrowing the new guy until we start shooting ok fine si si andiamo gli attendiam but there isn't a whole lot of time you know don't be late for the take it can be tough out here on location we've got to work as a team ok don't mind brisco he's always like that he's a really dependable guy though he'll be a big help to us both oh one more thing o un'altra cosa dimmi as a cameraman getting scoops is important but it's not the only thing in my opinion ad esempio dimmi se qualcuno davanti a te ha bisogno di aiuto o si verifico un'emergenza credo che dovresti smettere di filmare oh si certo but if you hadn't warned me about that board you might have gotten a little scoop on me well i guess we'd better head back to the news van a little bit nebbia, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla causa della nebbia, Jean-Philippe Brisco, e io mi chiamo? Iniziate le riprese con il suddetto a squadra, ok, va bene. Questa è una opportunità di vita, possiamo fare bene, ok? 3, 2, 1 Buongiorno, tutti. Questa è Pamela Martell. Vi rappresentiamo oggi su un fenomeno strano. Un'unica di più profonda, la causa di cui è ancora non conosco, ha croccato in la sud-esternia di Lake Michigan, centrile sui Chicago. La tutta la città è coveredata. Alguien si scopriò! L'abbiamo! allora da qua parte il gioco e quello che abbiamo fatto noi prima è tutto brief wow wow what are you talking about what happened it came through the oh my god help me help me what are you doing run get away from here come on let's get back to the newsman ma non dovevamo aiutare what was that what's happening just calm down what's going on what was that thing calm down down how do you expect me to calm down it's gonna be all right hey what's the matter with you are you just going to stand there filming turn that camera off i tell you come on hey pamela hey pamela useless idiot i've had it working with losers like you two behind you i'm joining up with some other team what just keep quiet behind you there's a mhm mhm e a mhm mhm Grazie a tutti Allora, ok Un mostro ha mangiato Pamela Stavamo andando tanto d'accordo E poi dopo Invece lei C'è una macchia di sangue qui Deve essere stato un incidente davvero raccapricciante E' morta come 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 Ora Tu Gentildonna Chi sei tu adesso? No Eh 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 Vabbè Vabbè io non sarei mai ritornato qui Ma eh Huh? The telephone Could it be Brisco? Vai 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 Ma che cazzo è il telefono? Hello? 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 Can you hear me? I can hear you Calm down Slow down Somebody answered Mom? Mom? Is that you? No, no I'm not your mother I'm not your mother Help me Che stronza che sei però eh I can't hear you very well Wait Don't hang up Where are you? E' colpa tua eh La piattaforma di osservazione di il centro buigli? Is there anybody else there with you? I don't know Oh no Oh no Oh no But Something Is coming Oh no Ok Ok Ho capito Just stay right where you are ok? We're coming to rescue you You hear me? Don't give up We're coming I promise Do you understand? Si ma She hung up Non è che è riattaccato Forse è stata mangiata There's a survivor in the center building Eh Let's go Andiamo si dai Maybe we can get some leads on what's going on But more importantly Somebody's in trouble Eh ma lei ha mandato a cagare Risco should be downstairs Let's hurry Ouch Oddio mio Alza di piedi Bella botta che ti ho dato eh Oh porca miseria Oh porca miseria che ridere Questo non è un horror Questo è un film comico Dai Cammina Cammina Dai Oh Allora Perché è rosso? Vai Attraversa Torni indietro No no Attraversa Vai vai Sì ma qua c'è sto un macello As soon as he knows he won't be needed He takes off Porca troia Sai che c'è un macello? Non capisco cosa vuol dire il quadrato rosso Non capisco cosa vuol dire il quadrato rosso Chi è che ride? Non morirà mica anche questo? Noi no E noi siamo Il personaggio principale Non capisco cosa vuol dire il quadrato rosso Oh Non vedi il perché non debba andare Sto un sonno di pianoforte E sarà Brisco E sarà Brisco Brisco? Brisco 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 ascolta sai cosa faccio per farti riprenderti che cosa faccio a morire con questo? cosa faccio dire a loro i bambini? Brisco? Hei, lo vedo, lo dirò. Pamela è una buona rappresentante e una bambina come in l'argo? si è stato un po' di questo lavoro si è stato un po' di sì Pamela era molto bravo, non? io la ammiglia io la ammiglia io ero in piaccia io ero in piaccia perché è lei è stato un po' di me dimenticolo non ho mai avuto un po' di più vediamo se vanno nell'ottico qua fermo mamma mia dai brisco forza che c'è ok scatto filino che ha fatto cazzo è qui il bar ma merda è qui il bar brisco l'hai mandato a morire cosa dove sta andando cagaccio che ho passato vai 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 acqua oh ma o ma non è un oraglio filchini devi salvare han per spintonarla Grazie a tutti. Ma non ho spinto nada.